Finti lavori edilizi tra Caserta e Salerno per ottenere l'eco bonus nei guai due fratelli di Vallo della Lucania e nove percettori di reddito di cittadinanza figurano come cessionari di crediti fiscali per i bonus edilizi per un ammontare di 4 milioni 800 mila euro nonostante risultano aver percepito essere attuali percettori di reddito di cittadinanza. Sono nove le persone scoperte nell'ambito di un'attività di indagine della Guardia di Finanza di Napoli sui crediti derivanti da bonus per lavori di ristrutturazione edilizia finalizzati all'efficientamento energetico e al miglioramento della staticità sismica previsti dal decreto rilancio che ha portato nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord al sequestro preventivo in via d'urgenza nei confronti di due fratelli titolari di imprese attive nel settore edile e del commercio di componenti elettronici operanti nelle province di Caserta e Salerno di crediti fiscali per 107 milioni di euro. I percettori di reddito, secondo quanto accertato dagli investigatori, erano privi di una dimensione economica imprenditoriale tale da consentirgli l'acquisto di cospicui crediti. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno eseguito approfondimenti su alcune negoziazioni eseguite dai due imprenditori salernitani di Vallo della Lucania accertando che avevano caricato un'ingente somma di crediti sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate derivanti da lavori di ristrutturazione che sarebbero stati eseguiti in via reciproca tra gli stessi fratelli e le loro società per le quali uno dei due assumeva la carica di rappresentante legale solo due giorni prima delle avvenute cessioni. La ricostruzione dell'intero flusso di crediti generato sul portale ha permesso di accertare che ben nove tra i successivi cessionari risultavano percettori di reddito di cittadinanza. La Procura di Napoli Nord ha quindi disposto il sequestro delle somme caricate sul portale dell'Agenzia delle Entrate per 107 milioni di euro di cui 2 milioni e 250 mila euro per equivalente in ragione dell'avvenuta monetizzazione del profitto del reato di truffa ai danni dello Stato conseguita per il tramite della cessione dei crediti a dignari istituti finanziari.